Cosa è stato Berlusconi per la città dell'Aquila in quel terribile momento? Ma Silvio Berlusconi quella mattina che arrivò dopo poco ore credo che decise quale dovesse essere l'attenzione del governo e del sistema paese rispetto alla tragedia aquilana su valutazioni anzitutto umane che li riconosco politiche della situazione nazionale e internazionale ma ripeto soprattutto umane è stato decisivo all'inizio poi successivamente io credo grazie anche a alcuni rapporti personali che si erano installati capì la chiave di volta della vicenda aquilana che è quella dell'annullamento della famosa ordinanza della notte del 5 di maggio quella che al primo mese fissava prevedeva il trasferimento di tutte le funzioni della città dell'Aquila nelle città vicine e stesso destino per i dipendenti sulla scorta del danno riportato alla città dicevo in quella notte Silvio Berlusconi decise intorno alle 3 di notte credo di ritirare ordinanza di andare ad annullare la gazzetta ufficiale credo sia stata l'unica volta che ciò sia verificato dall'unità d'Italia in poi e quella fu una scelta che credo fece con chiaramente con pressioni mie fortissime fece con Gianni Letta anche contro il parere io credo della gran parte del governo quella è una scelta che io gli riconosco e credo che gli aquilani debbano a Berlusconi questa cosa perché quella fu un po' la chiave di volta cioè rispetto all'impostazione iniziale del primo mese del destino della città quella notte qualcosa cambiò quella è la chiave di volta e si deve a lui e in particolare a Gianni Letta che capì che quella notte io personalmente non scherzavo e c'era da fare poi è stato successivamente presente che ha sempre seguito le vicende aquilane credo che comunque sia stato un insieme di cose per le quali la città poi rapidamente nei primi anni ha accelerato il passo Berlusconi avrebbe voluto offrire una Aquila 2 perché non fu fatta? Allora, sì, di quella mattina quando scende all'elicottero credo che sia la mattina successiva quindi la mattina del 7 di aprile o l'8 io ricordo che scese con l'elicottero alla guardia di finanza io andai a ricevere e si vede alcune immagini che io facevo mentre gli parlava anche un fatto di scarsa educazione probabilmente perché lui scese e mi disse guarda sindaco, stai tranquillo adesso ricostruiremo una nuova città io so come si fa 70 metri quadri lo ricordo con un film e mi scorre davanti agli occhi 70 metri quadri per un nucleo familiare ci sta benissimo e avremo una strada l'estate per le macchine per i pedoni e per le biciclette io già l'ho fatto questa cosa sono un imprenditore so come farlo io in quel momento pensai che l'idea di una new town per l'intero comune dell'Aquila fosse impossibile d'altra parte questa è una cosa che ancora non viene capita quando viene contestata la realizzazione delle 19 new town viene fatto da chi ha un'idea dell'Aquila intorno ai quattro cantoni poiché il governo aveva deciso di realizzare solo esclusivamente il progetto case è chiaro che era necessario pensare ad Assergi Arischia Camarda Bagno dove poi non era possibile fare per cui facemmo i mappe per un problema idrogeologico Sassa e così via dopodiché le case non bastavano però devo dire che nel confronto che avevamo continuo io devo dire che per più circa due mesi io vedi molto molto più spesso Berlusconi credo lui venne all'Aquila più di 20 volte che la mia famiglia e mia moglie comunque diciamo che fu disponibile anche a ragionare a ragionare su le nostre proposte le nostre preoccupazioni poi in questi casi non è bello parlare magari se stessi in queste ore devo dire che si è creato un rapporto particolare fra lui e me magari forse perché gli raccontarono le prime ore dopo il sisma per cui c'è stato un rapporto che è durato poi anche negli anni nel senso soprattutto attraverso Gianni Letta sempre sono scambi di saluti auguri e così via cosa ricorderà lui? beh chiaramente c'è una parte della politica nazionale che ricorderò è un mio giudizio che poi adesso la storia definirà meglio sicuramente Berlusconi negli ultimi 30-40 anni è quello che ha impresso un destino diverso a questo paese è inciso in modo più marcato rispetto a a chiunque altro credo con un intuito che era proprio dell'imprenditore una capacità di visione lui decide di fare Forza Italia su proposta del professore Urbani che inizialmente si era rivolto a Agnelli in quegli anni lui capisce ha grandi intuizioni grandissime intuizioni come imprenditori grandi visioni ma ripeto momenti di intuizione e la storia dirà se questa diciamo così questa orma questo percorso nuovo che ha imposto ha dato al paese sia stato giusto non giusto e di quanto sia stato un corretto per quanto riguarda la vicenda aquilana ho un giudizio io positivo e per quanto riguarda il rapporto personale fra me e Silvio Berlusconi invece ne conservo un ricordo un ricordo devo dire un bel ricordo dopodiché l'impressione che io ho sempre avuto un uomo di un'intelligenza di un'intelligenza assoluta questo aveva una capacità di cogliere le cose con immediatezza assoluta e un grande carisma questo sì aveva un grande carisma su tutti io ho visto che tutti quelli che gli stavano intorno erano conquistati ma lui era una persona comunque anche lui voleva piacere a tutti aveva questa cosa per cui anche dal punto di vista umano e poi di quello che diceva era convinto anche se egli stesso sapeva che non era vero un'allegittura di un'allegittura attraversa attraversa